Musica Regà clamoroso, 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 clamoroso La Serbia, la Serbia ribalta il Portogallo, ribalta il Portogallo, lo supera in classifica e se ne va ai mondiali E che cazzo vi stavo dicendo io? Cosa vi stavo dicendo? Che non è facile per niente, che non è scontato per niente andare ai mondiali Cosa vi stavo dicendo? Che qui bisogna lottare punto su punto, eppure alla Spagna oggi gli è andata bene Ve lo dico subito, domani mattina ore 7, mettete la sveglia, parliamo anche di un'altra partita di oggi pomeriggio Fatemi sapere se indovinate di cosa sto parlando perché devo chiedere mea culpa, voglio sapere se lo indovinate Ragazzi ma di che cazzo stiamo parlando? Clamoroso quello che vediamo, clamoroso quello che vediamo Un Portogallo che va avanti con il gol di Renato Sanchez immediatamente e io lì ho detto vabbè senti Alla Serbia già non bastava passare, cioè già non bastava pareggiare, perché dicevo pareggia magari un po' come poteva fare la Svezia Se avessi vinto con la Georgia invece ha perso tre giorni fa, polli anche loro Quindi già ho detto così, ho detto vabbè il Portogallo ormai è passato, cioè ora sta vincendo il Portogallo addirittura La Serbia deve ribaltarlo, la Serbia ragazzi io che ho ricordo quando ero più piccolino era una squadra molto interessante Poi si era persa e quest'anno e negli ultimi anni soprattutto aveva tirato fuori giocatori interessanti Vi parlo dei vari Milenkovic, Zirkovic, Lukic, Tadic, Kostic, Milenkovic, Savic Insomma giocatori molto 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 interessanti, i vari Mitrovic, Mitrovic tra l'altro E quindi la pareggia Tadic, mezz'oretta Tadic e la pareggia e io rimango là, basito Io rimango là clamorosamente allibito dal fatto che comunque la Serbia è riuscita a riprenderla e a rimetterla in piedi Perché la Serbia queste cose ce le ha, perché queste giocate la Serbia le fa Ma ragazzi al 91esimo Mitrovic trova il gol del 2-1 e spedisce la Serbia ai mondiali Il Portogallo deve passare dai playoff e io ve lo ripeto, ve lo ripeto, ve lo ripeto, ve lo ripeto e lo ripeterò all'infinità Quest'anno i playoff sono una guerra Quest'anno per passare dai playoff ci vuole, ci vogliono, le palle ci vogliono Perché a differenza di 4 anni fa dove noi comunque uscimmo come dei polli 4 anni fa ragazzi potevi passare, volendo, anche secondo come è successo quest'anno Affrontare una squadra, eliminarla e via Quest'anno fai semifinali e finale per ogni gruppo da 4 ne passa una Regà quest'anno per il Portogallo si fa dura Io ve l'avevo detto, io ve l'avevo detto che sarebbe stato duro Ve l'avevo detto, ve l'avevo detto Ma anche la Spagna, che poi fa tanto la figa A parte ho già vinto, però insomma deve ringraziare, deve ringraziare di cuore Il fatto che la Svezia abbia fatto Arachiri tre giorni fa con la Georgia Se no oggi la Svezia sarebbe aiutata in campo in altro modo L'avrebbe giocata in altro modo, magari molto più chiusa Magari con molta meno ansia Magari avrebbe strappato un punto E magari avrebbe eliminato la Spagna La Spagna è stata anche aiutata da una divinità che non si sa qual è Perché regà oggi è successo qualcosa di pazzesco La Spagna passa e vabbè, ma il Portogallo In questo momento non va ai mondiali Il Portogallo in questo momento non va ai mondiali La Serbia vince, va ai mondiali Il Portogallo passa dai playoff Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale Io vi ringrazio, buon c'è la lalla E noi ci vediamo al prossimo video Ciao regà